Zildian ZBT China da 18 pollici 1,321 grammi 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 Un piatto veramente in ottime condizioni questo che sto provando oggi Ormai della serie ZBT abbiamo già parlato abbastanza in altri video Ho provato un crash da 16, un crash da 18 Anche se sono della serie ZHT ZXT la ZBT è simile Parliamo di piatti in lega B8 stampati a macchina Un suono metallico e dal decadimento rapido Un ottimo piatto che si presta bene per il giovane metallaro che inizia ad approcciarsi al mondo del China Come sempre il link qui sotto in descrizione Ci vediamo come sempre su Scegliere la batteria al prossimo video Ciao